Consentitemi di essere esplicito sin dall'inizio, non credo che vi piacerò, i signori proveranno invidia e le signore disgusto, non vi piacerò affatto, non vi piacerò ora e vi piacerò ancor meno in seguito. Signore, un avvertimento, io sono pronto a tutto ed in ogni momento, che questo sia merito o demerito ora è difficile da dire, tuttavia è certo che sono libertino e continuerò a spassarmela e a provare ardenti passioni, non dolete, ve ne vi arriccherebbe afflizione, traete dunque le vostre conclusioni stando alla stessa distanza che terreste se sapeste che stessi permettere la mia lingua sotto le vostre sottane. Signori, non disperate, io sono pronto a tutto, lo stesso avvertimento pare anche per voi, plagate le vostre squali ed erezioni perché quando avrete un amplesso allora vedrò di cosa siete capaci e così saprò se siete venuti meno alle mie aspettative, vi auguro di fottere immaginando che la vostra amante segreta mi stia spiando di nascosto e di provare le stesse sensazioni che ho provato e che provo e chiedervi sarà questo lo stesso brivido che sente lui, avrà provato qualcosa di più intenso o c'è un muro di disgrazia contro cui tutti battiamo la testa in quell'eterno fuggito momento. Questo è il mio prologo, nessuna rima e nessun decoro, non era quello che vi aspettavate, spero.